Rodrigo Taddei contro Arcari, nel terzo rigore della stagione per il Perugia. La rincorsa di Taddei, prende! Rade! Rodrigo Taddei! Rodrigo Taddei! Esplode il Renato Curi! Perugia in vantaggio al trentatresimo, meritatissimo per il Grifo! Grazie a Maria! La rincorsa di Taddei! La rincorsa di Taddei! Rodrigo Taddei! La rincorsa di Taddei!